Ho girato l'Italia alla ricerca di luoghi carichi di storie, di vite vissute e poi lasciati all'oblio. Attraverso il mio progetto voglio far scoprire e rivivere la gloria di ville, castelli e ospedali abbandonati da tutti, persino dei ricordi. Con le mie fotografie cerco di trasmettere sensazioni di meraviglia, stupore e turbamento. Immortalo villa arredate in cui sembra di poter sentir scorrere ancora la vita. Grandi saloni affrescati che lasciano spazio a feste da fiaba, luoghi colmi di emozioni e ricchi di particolari. Proprio per questo ho scelto la nuova Lumix S1R. Il sensore full frame mi permette di controllare il rumore anche alle sensibilità più elevate, consentendomi di realizzare immagini sempre nitide. Con la modalità di scatto ad alta risoluzione ho la possibilità di realizzare fotografie da 187 megapixel, riuscendo così a immortalare anche il più piccolo dettaglio. L'impugnatura salda e comoda mi ha trasmesso subito un buon feeling con la macchina e grazie al design intuitivo delle funzioni è come se la usassi da sempre. Un'altra funzionalità molto utile è il display orientabile, che permette di controllare la composizione dell'inquadratura anche in spazi ristretti. Quello che più mi ha colpito della Lumix S1R è la straordinaria qualità dell'immagine. La resa dei colori, dei contrasti e delle atmosfere di luce mi consente di catturare la vera essenza di questi luoghi surreali. Grazie a tutti.